Sono piante di lamponi puniferi che fanno una fioritura quindi a maggio e una raccolta tendenzialmente a giugno. In genere abbiamo una data precisa, sono due anni che raccogliamo esattamente il 3 giugno, il che ci fa pensare che probabilmente abbia una specie di orologio di tegrato, qualcosa del genere, un calendario. Queste piante danno dei frutti dolcissimi di pezzatura medio-grande, sono molto apprezzati dai pasticceri infatti perché sono anche esteticamente molto belli, oltre che molto buoni. Li abbiamo già in parte cotati per cui qui il secco non è presente o almeno potersi che sia sfuggito qualche cosa ma tendenzialmente non c'è. L'autunno molto caldo ha già messo in luce tutti i nuovi germogli di polloni che fruttificheranno la stagione che viene. Noi adesso cerchiamo di raccogliere tutti quelli che sono fuori dalla corsia di impiantumazione, quindi la corsia madre diciamo così, e li spostiamo in altre corsie dove non c'è stata una buona riuscita dell'impianto precedente per reintegrare. Una cosa che in questo impianto è stata fatta all'origine è la messa a dimora di sei cultivar differenti di lamponi e abbiamo riscontrato che nell'arco di questi tre anni si è creata una vera e propria ibridazione perché queste piante che come spiegavo vanno a fruttificare, cioè a fiorire e a fruttificare tra maggio e giugno, in alcuni casi abbiamo trovato dei frutti adesso che non è dovuto secondo me solo a un fattore climatico ma anche al fatto che nelle corsie vicine ci sono sempre dei lamponi di cultivar che tendenzialmente fioriscono tra agosto e settembre, cioè fruttificano tra agosto e settembre. Quindi io penso che madre natura abbia fatto il suo corso e in qualche maniera si sia creato quel miscuglio genetico che sta dando a queste piante la possibilità di protrarre la fioritura o comunque di farne magari una successiva. E chissà che magari le rivestisce pure e le rende meno sensibili anche alle condizioni climatiche più avverse che qui corrispondono all'estate e delle isolazioni terribili che le macchiano, tendono a macchiare il frutto di bianco e durante il periodo di primavera e di autunno quel stato di umidità quasi perenne perché si crea una coltre di nebbia su questi campi che comincia a diradarsi intorno alle 11 di mattina. Quindi immaginate un po' caldo umido, non è proprio l'ideale. Vediamo un attimo come stiamo svolgendo. Le buchette per il trapianto sono identiche a quelle delle more, non cambia niente perché le esigenze nutrizionali sono delle loro stesse. Almeno quelli che si sono ambientati qua funzionano così. Le piantine in questione? Ecco allora queste per esempio si trovano fuori corsia e adesso le spiantiamo tenendoci con la vanga. Si potrebbe fare anche con la paletta ma il terreno è troppo compatto perché ha piovuto da poco quindi essendo molto argilloso è difficile riuscire in questa operazione con una paletta più piccola. E quindi con la vanga andiamo a tagliare tutto intorno e cerchiamo di rimuovere il pane. Quasi sicuramente le radici provengono da queste piante qua. Nel senso che il lampone tende a diffondersi sottoterra e a riuscire a ricacciare dalle radici che si estendono a un 5-10 cm al massimo di profondità. Quindi hanno un impianto radicolare molto superficiale che man mano che si allarga ricaccia giovani polloni. Tende a morire la pianta madre quindi noi cerchiamo di riportare sempre in corsia per evitare di ritrovarci a un certo punto un emmenso brado di lamponi. Dopo la raccolta sarebbe veramente complicata. E niente vi facciamo vedere come procediamo. Guardate un po' cosa abbiamo trovato mentre stavamo pulendo dalle erbe spontanee per fare le buche per i trapianti. Stavo rimuovendo le erbe e in mezzo ho trovato questo. Prova inconfutabile che visitano il nostro lamponeto. Poverino è morto qui e sta rilasciando tutte le sostanze a terreno. Allora non so se si vedono però avremo anche un terreno argilloso e con le sue problematiche quello che è l'humus non è tantissimo. Però loro stanno lavorando e devo dire che ogni volta che facciamo un piccolo scasso ce ne troviamo sempre tantissimi. quindi evvive lombrighi! Grazie! Grazie a tutti! 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 Questa è la terra combinata con la madre. Hanno delle radici molto sottili comunque. Non bisogna aspettarsi delle grandi radici forti. Infatti si sostiene che in un terreno argilloso come questo la pianta di lamponi abbia poche speranze. Allora questa l'ho pulita per farvi vedere effettivamente io lo chiamo il sistema t da qui che è stata tagliata dalla vanga arrivava la radice madre pian piano ha ricacciato verso verso l'alto e ha generato una nuova piantina questa andrà avanti e procederanno lo stesso sistema producendo nuove piantine all'infinito noi adesso andiamo a metterla in terra allora facciamo giù torba e la poggiamo un attimo cerchiamo di dargli la stessa profondità che aveva l'origine si vede perché comunque il fusto il fusticino è ancora sporco di terra e umido quindi stava infilato in terra fino a questa altezza e noi cerchiamo di riportarla più o meno lo stesso livello io adesso mischio e rimetto dentro uno strato di torba e uno di argilla chiamiamola così perché la terra nostra come dicevo ci si potrebbero fare i vasi dell'acqua ok la poggio la incastro pure in modo che sta ferma possibilmente mentre facciamo st'operazione e non comprimo troppo perché hanno bisogno d'aria ok metto di nuovo la giusto se vedo che serve riposizioniamo tra qualche giorno dice che piove per cui avremo sicuramente una stabilizzazione del terreno in questa zona qui soprattutto dove è stata messa la torba in grande quantità ok ecco fatto